da riviera sport mister medori del don bosco un mister molto molto critico come andata la partita oggi prende il risultato però dobbiamo ancora lavorare probabilmente abbiamo molte assenze abbiamo avuto qualche problema durante la settimana qualche ragazza da problemi di lavoro mezzi infortuni malattie non abbiamo dato continuità lavoro oggi non abbiamo fatto una buona partita abbiamo meritato il risultato che non è stato in discussione abbiamo aperto una partita che era nettamente chiuda cos'è che non è andato bene secondo lei alla continuità l'impegno agonistico la qualità del fraseggio l'intensità di gioco diciamo che siamo ben distanti da quello che abbiamo fatto probabilmente fino alla quindicesima quattordicesima per esempio abbiamo pareggiato contro le timbro le timbro le timbro maschio maschio ma il le timbro abbiamo pareggiato contro il le timbro ma facendo una partita straordinaria oggi abbiamo fatto 3 a 1 sì che il livello degli avversari era diverso rispetto alle timbro e allora anche favorito però c'è da molto da lavorare adesso però ci proviamo fino in fondo daremo il massimo siamo rimasti pochi perché qualcuno ha avuto problemi di lavoro altronde noi siamo partiti con facendo giornata per giornata grazie